Rubavamo per noia la confessione di due ventenni che a Recco scassinavano le macchinette automatiche e con i soldi compravano la droga. Buffera su Maurizio Balsotti e il consigliere comunale Giorgio Getto Viarengua a riportare i due commenti su Facebook del presidente del consiglio comunale di Chiaveri e a chiedere le dimissioni al sindaco Roberto Levaggi per una frase sui arabi. 83 anni e manesco, anziano denunciato a Lavagna per aver rotto il polso ad una donna, una sua vicina di casa. Ristruttura senza permesso, lavori a capannoni senza l'ok del comune, denunciato pensionato di Moneglia. Esculapio d'oro, il riconoscimento del comitato assistenza malati Tiguglio, giunto alla sua ventisesima edizione e andato a dottor Pier Giorgio Gatto e l'infermiere Mauro Papi. Sommergibili a Santa, sommergibili per la ricerca, manifestazione organizzata da Airet, l'associazione Onlus a favore della ricerca per la sindrome di Rett. Buonasera dal TG Tiguglio, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca. Rubavano soldi all'interno delle macchinette automatiche per noia. È la confessione shock di due ventenni, uno di Recco e uno di Sori. Il fatto è avvenuto però in diversi luoghi di Recco e con quei soldi rubati compravano la droga. I carabinieri di Recco sono riusciti ad identificare gli autori dei furti seriali commesi ad alcuni distributori automatici situati presso altrettante attività commerciali ed enti pubblici locali avvenuti a Recco nelle notti dell'11, del 14 e del 17 marzo. Sono un 26enne di Sori e un 22enne di Recco, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Una volta individuati ed identificati, hanno ammesso i reati contestati e addirittura giustificandosi dicendo di non sapere come passare il tempo perché annoiati. La somma che i due avrebbero recuperato scassinando i distributori automatici ammonta circa 500 euro, soldi che i due hanno dichiarato di aver poi utilizzato per l'acquisto di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa dei carabinieri di Recco è stata condotta con l'acquisizione di testimonianze e soprattutto con la visione delle telecamere e del sistema di videosorveglianza che ha incastrato i due giovani. E ieri a Moneglia un pensionato è stato denunciato dai carabinieri per esecuzione di lavori in assenza di permesso poiché sorpreso mentre stava ristrutturando dei capannoni senza l'ok del comune. E adesso parliamo di politica. Se il consigliere regionale della Lega Nord, Giovanni De Paoli, era finito nell'occhio del ciclone per una presunta frase contro gli omosessuali, ora si è scatenata una piccola bufera politica su Maurizio Barsotti, presidente del Consiglio Comunale di Chiavari, per una frase scritta su Facebook, in particolar modo sui armi. Giorgio Getto Viarengo, che ha scoperto il tutto, diciamo così, chiede le dimissioni di Biasotti. Giorgio Getto Viarengo chiede le dimissioni da presidente del Consiglio Comunale di Chiavari di Maurizio Barsotti con una lettera aperta al sindaco Roberto Levaggi. Viarengo riporta infatti un paio di commenti postati su Facebook da Barsotti. Il primo, a supporto di un post che bollava come comunista Giulio Reggeni, il giovane ucciso in circostanze ancora non chiare in Egitto, chiamando in causa anche Giuliana Sgrena. Il secondo, invece, più chiaro, in cui Barsotti scrive testualmente «Nei primi anni settanta, quando andavo e tornavo dalla Libia, sentivo dire nei ritrovi degli operatori europei che l'arabo buono è l'arabo morto. Ora capisco perché». Un capolavoro di tolleranza, un contributo da profondo intellettuale, dice sarcasticamente Viarengo, che si rivolge al primo cittadino di Chiavari. Giudichi lei se è possibile affrontare una discussione serena in consiglio con arbitro Barsotti». E Barsotti ha reagito e dice «Sono molto dispiaciuto che alcuni miei commenti su post altrui, forse scritti troppo frettolosamente come del resto a care sui social network, siano stati fraintesi da Viarengo». E la risposta di Barsotti che aggiunge «Per quel che riguarda il caso di Giulio Reggeni, sono ben lieto che la Costituzione del Comitato per fare luce sulla sua barbara uccisione sia venuta proprio presso l'aura consigliare del Palazzo Comunale di Chiavari che io presiedo. Si tratta di un fatto che dimostra la sensibilità mia, dell'amministrazione comunale e dei consiglieri, tutti nei confronti di questa triste e drammatica vicenda che vede protagonista un cittadino italiano. Le mie intenzioni in uno dei commenti erano di precisare, chiudendo con un'esclamazione certamente colorita, forse lo ammetto e me ne scuso, prosegue Barsotti, «inopportuna, quanto fosse importante, non dimenticare nessuno fra tutti coloro che subiscono violenze e ingiustizie nel nome di qualsivoglia genere di integralismo, fanatismo, presunti reati. La mia vicinanza e la mia solidarietà col popolo arabo sono totali, lo ribadisco con decisione e mi scuso se l'imprecisione di qualche mia frase ha recato offesa». E Roberto Levaggi, sindaco di Chiavari, aggiunge, «per quanto riguarda le informazioni postate sui social network dal presidente Barsotti, delle quali peraltro sono venuto a conoscenza solo oggi dal consigliere Viarengo, conoscendo da tanti anni la sua vita sia professionale sia politica, i suoi valori, il suo spirito liberal democratico, penso sinceramente che siano state travisate oppure, nella peggiore delle ipotesi, postate frettolosamente e in modo non congro». Ovviamente, prosegue Levaggi, non avendo potuto approfondire tutt'oggi la questione, mi riservo di chiarire appena possibile le dinamiche di quanto è avvenuto direttamente insieme al presidente Barsotti. Dechiudiamo la polemica politica a Chiavari, per parlare ancora di cronaca, litigie e botte a Lavagna con protagonisti addirittura un 83enne e a Sessi Levante invece, o meglio, nella frazione di Riva Trigoso, stranieri irregolari invece denunciati a ne. Vediamo. «I carabinieri di Lavagna hanno denunciato un uomo di 83 anni che, secondo quanto denunciato dalla vicina di casa, il 5 febbraio scorso ha colpito la donna di professione cuoca con un calcio facendola cadere a terra e procurandole la rottura del polso con prognosi di 30 giorni. La lite era riconducibile a problemi condominali in una casa bifamiliare e l'uomo ha precedenti penali. L'altro ieri invece sono venuti alle mani un imprenditore edile di Sessi Levante, di 55 anni, e un suo dipendente di Torino, 54 anni, che si trovavano all'interno di un cantiere edile nella frazione di Riva Trigoso, a scatenare il tutto questione di lavoro. I due si sono malmenati ed entrambi hanno riportato prognosi per 30 giorni. Anche per loro denuncia per lesioni personali. Stranieri non in regola invece con il permesso di soggiorno a ne. Due albanesi domiciliati nel paese della Val Graveglia, di 33 e 27 anni, erano stati formalmente invitati dai carabinieri di Bozonasca per regolarizzare la loro posizione in Italia entro il 30 marzo. Non avendolo fatto, sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dall'autorità giudiziaria. Torniamo a Chiaveri, torniamo a parlare di politica, ma non c'entra nulla con la vicenda che ha visto il protagonista Barsotti con Via Rengo, perché il consigliere di Chiavere Avanti Così, Silvia Garibaldi, tirata in ballo dal consigliere di partecipativa Giorgio Canepa, replica così, ho a cuore la sicurezza dei cittadini e lui non può esprimersi al posto mio su questo. La Garibaldi fa riferimento alla sua decisiva stensione, oltre a quella di Marco Rocca, sulla richiesta di Canepa di uno studio sulla foce del torrente Rupinaro. L'ampliamento del porto non è ancora concluso e ritengo, prima di fare uno studio, sia il caso di attendere tale completamento ed un assestamento dopo lo stesso, conclude Garibaldi. La messa in sicurezza del Rupinaro non è concentrata solo sulla foce, ma lungo tutto l'asse. Non mancano le opere già certamente da realizzare in attesa che il porto sia completato. E adesso parliamo dell'esculapio d'oro, Pier Giorgio Catto, pneumologo del reparto di medicina dell'ospedale di Sestri Levante. Mauro Papi, infermiere capo nel reparto di Alisi, sempre dell'ospedale di Sestri, sono i vincitori del 26esimo premio esculapio d'oro. Assegnato, come sempre, dal comitato assistenza a malati del Tiguglio. La consegna vera e propria avverrà sabato 16 aprile alle 20 al Grand Hotel dei Castelli a Sestri Levante. Oggi sono stati comunicati i nomi dei vincitori che erano presenti a questa conferenza stampa. Vediamo. Una scelta quest'anno che è caduta su di lei, che sensazione le dà? Che cosa le fa venire in mente? La ringrazio e ne sono contento perché credo di avere sempre messo il massimo di impegno sia nei confronti del malato dal punto di vista umano sia anche dal punto di vista generale nel cercare di conservare un servizio di endoscopia toracica e comunque una struttura semplice di pneumologia e di questo devo ringraziare e devo citare i miei colleghi. Siamo rimasti in quattro, da otto che eravamo e credo che nel complesso abbiamo cercato in qualche modo di mantenere un'attività pneumologica a servizio dei pazienti pneumologici anche di un certo livello. E quindi questo premio credo che vada alla divisione, alla struttura semplice di pneumologia e quindi anche ai miei colleghi Nicolini, Perazzo e Colla Martino che si occupano delle malattie respiratorie. Il premio Sculappio per quanto riguarda il settore infermieristico quest'anno l'è stato assegnato, ecco come l'ha vista lei questa cosa? Non me l'aspettavo, è una cosa che mi fa molto piacere che mi stimola a fare meglio è un premio che sento mio perché viene da me però è anche un premio a tutto il reparto, a tutta l'organizzazione a tutto lo staff della dialisi a partire dal primario fino ad arrivare a tutti quelli che lavorano nel nostro reparto e che fanno sì che riescano a dare delle buone prestazioni e dei buoni trattamenti alle persone che si rivolgono a noi. Quali sono stati i criteri di valutazione per questa edizione? Noi non valutiamo, noi riceviamo soltanto delle segnalazioni. Quando è nato questo premio, 26 anni fa, ci siamo chiesti che cosa potevamo fare per trascinare i giovani medici per dare degli esempi, per spingere le persone a comportarsi come medici con la M maiuscola e noi abbiamo pensato di assegnare questo premio che tra l'altro consiste in un'opera del maestro Francesco Dall'Orso avevamo pensato di assegnarlo a un medico e a un infermiere che avessero dimostrato grandi doti di umanità naturalmente coniugate con anche doti professionali ed è questo che noi andiamo perseguendo ed è nella maggior parte dei casi, direi nel 99% dei casi abbiamo raggiunto l'obiettivo. Anche quest'anno abbiamo due persone splendide, meravigliose forse lei le conoscerà, ve l'ha sentito parlare di queste persone sono persone che ce ne fossero e noi gli facciamo i complimenti, siamo grati e vogliamo onorarle nel nostro piccolo come meglio possiamo. Si potrà firmare a Chiavari, a Rapallo e a Sestilevante per una proposta di legge e tre referendum e il tutto promosso dalla CGL. Con oltre il 99% di voti favorevoli è stato approvato il testo di quella che sarà la proposta di legge sulla quale inizierà una raccolta di firme in tutta Italia a partire da sabato prossimo. È il risultato scaturito dalle 136 assemblee di consultazione promosse dalla CGL sulla Carta dei diritti universali del lavoro che si sono svolte tra il Tiguglio e il Golfo Paradiso e alle quali hanno votato circa 2.785 iscritti. Ora saranno raccolte le firme anche per tre quesiti referendari che chiedono la cancellazione del lavoro accessorio, la reintroduzione della piena responsabilità solidale in tema di appalti e una nuova tutela reintegratoria nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per tutte le aziende con più di 5 dipendenti. Si potrà firmare nelle tre maggiori città del Tiguglio dalle ore 9 alle ore 13 il 9 e il 22 aprile in piazza Matteotti a Chiavari il 14 aprile in piazza Cavour a Rapallo ed il 16 aprile nell'angolo tra Viale Dante e il Caruggio a Sesti Levante. E rifondazione comunista se è possibile Green Italia e il Comitato Acqua Pubblica del Tiguglio hanno illustrato le ragioni del SIL referendum sulle trivelazioni petrolifere del prossimo 17 aprile. Intanto è stato organizzato un dibattito politico sul referendum fissato per sabato alle 20.45 presso l'Auditorium San Francesco di Chiavari. Interverranno tra gli altri il giornalista Emanuele Bonacosi il consigliere regionale Gianni Pastorino e Massimo Maugeri di Green Italia. E adesso torniamo a parlare di sanità ma in maniera negativa corruzione nella sanità la ricerca dice episodi di tangenti in un ASL su tre in Italia il rapporto è di Traspanseri e per Paolo Cavagnaro dell'ASL 4 Chiavarese invece non bisogna fare di tutto un elba, un fascio. Ed ieri una notizia piuttosto sconcertante la corruzione, quello che viene definito lo spreco e proprio gli appalti che vengono assegnati dalle ASL una su tre si dice è messa in una situazione problematica. Ma la metodologia di questo sondaggio mi lascia aggettivamente un po' perplesso. il problema esiste in ogni struttura cioè il problema può esistere in ogni struttura oggi però col decreto anticorruzione ci sono molti controlli io quindi mi permetto di dire che queste diciamo affermazioni che sono state fatte ieri non mi trovano assolutamente d'accordo il problema esiste però bisogna quando si parla di questo problema identificarne assolutamente le cause e dire avviene qui, avviene qui, avviene qui non di fare tutto un elba, un fascio perché dietro il lavoro degli apparti c'è un grosso lavoro di tipo amministrativo di controllo e poi ci sono comunque le istituzioni a cui rivolgersi se uno nota che ci sono state delle cose che non corrispondono alla norma questa indagine che è stata fatta mi lascia aggettivamente un po' perplessa è più interessante secondo me quella che aveva fatto l'Agenas poco tempo fa e diceva? diceva che è evidente che il problema esiste perché in sanità c'è un grosso giro di affari però anche con la concentrazione delle attività di appalto in particolare le centrali sapete che ormai per legge sono obbligatorie le centrali almeno regionali di acquisto addirittura adesso la regione Liguria ha fatto riferimento per il materiale per le trasfusioni a una gara sovra regionale quindi secondo me con queste strutture più grosse questo rischio è minore è anche vero che non c'è gara che non abbia un ricorso quindi ci sono ulteriori controlli comunque che vengono fatti ormai praticamente noi aziende singole possiamo fare delle gare solo al di sotto dei 40.000 euro quindi mi sembra che queste cose che sono state scritte a grossi caratteri sui giornali non favoriscono il cittadino nell'avere fiducia nel servizio sanitario e non fanno il bene della collettività Armando Ezio Capuro chiede una discussione ed un voto in consiglio comunale a Rapallo sulla richiesta di ampliamento della coppa a mille metri quadrati di superficie il consigliere di minoranza lamentando di aver già proposto tra volte l'argomento negli ultimi mesi si rivolge al prefetto di Genova oltre che al segretario comunale dicendo viene rinviata la discussione lasciando in soluto un importante problema e chiede di voler tutelare i diritti dei consiglieri comunali e adesso parliamo di viabilità ma anche di politica perché proprio quando sono stati aggiunti due ulteriori cartelli di senso vietato in via Cesare Battisti a Lavagna strada che vedeva spesso automobilisti andare in contro umano si è dimesso l'assessore esterno alla viabilità Rosario Lobascio ieri mattina sono stati aggiunti due cartelli di senso vietato all'incrocio tra Corso Genova e via Cesare Battisti a Lavagna da quando quest'ultima via era diventata a senso unico si erano sprecate ogni giorno le violazioni al codice della strada per questo molti automobilisti e pedoni lavagnesi dopo aver visto togliere un senso di marcia a mezza via quella che va da Corso Genova a Corso Buenos Aires invocavano il ritorno al doppio senso di marcia perché diverse automobili percorrevano via Cesare Battisti in contromano decisione importante questa per la viabilità della città proprio ora che il sindaco di Lavagna Pino Sanguinetti ha ricevuto ieri le dimissioni dell'assessore esterno alla viabilità Rosario Lobascio uomo di fiducia di Sanguinetti con il quale aveva condiviso attività imprenditoriali e la creazione del gruppo Movimento per Lavagna Lobascio era stato nominato assessore senza essersi candidato nel 2014 era stato di recente oggetto di qualche critica anche all'interno della stessa maggioranza per il bando sui parcheggi sfuggito nei contenuti e poi rielaborato lo ringrazio dal passo indietro ha capito le esigenze dell'amministrazione comunale ha affermato il primo cittadino in riferimento alla dichiarata necessità di un assessore al bilancio questo ruolo è stato formalmente assegnato oggi a Bruno Rossetto residente a Busalla ragioniere capo proprio a Lavagna tra il 1991 e il 1994 quando Sanguinetti era assessore della giunta di Gabriella Mondello che da un anno era membro dello staff dell'attuale sindaco Rossetto viene delegato a bilancio finanze e programmazione economica mentre la viabilità passa ora al primo cittadino cambiamo decisamente argomento Moneglia tra i 20 borghi più cercati su Trivago.it l'osservatorio Trivago ha stilato la classifica dei borghi più cercati in Italia al primo posto c'è Otranto località in Puglia poi Moneglia invece si trova al quindicesimo posto gli altri 4 comuni Liguri presenti sono Leris e Vernazza che si trovano in provincia di La Spezia e Laigueglia e Noli in provincia di Savona e arrivano a Santa Margherita Ligure sommergibili Siluri ma non in mare vediamo sono arrivati i sommergibili e i siluri a Santa Margherita Ligure nell'ambito della manifestazione sommergibili per la ricerca organizzata da AIRET l'associazione ONUS a favore della ricerca per la sindrome di RET una malattia rara di origine genetica che colpisce le bimbe a partire da dopo domani sabato 9 aprile ci saranno davvero interessanti novità siluri e piccoli sommergibili in alcuni punti della città mostra pittorica e fotografica tecnologia per far divertire i ragazzi e sempre sabato 9 aprile a pranzo troffiette al pesto benefiche pro AIRET proposte dall'associazione Scoglio Sant'Erasmo in questi giorni stanno arrivando a Santa Margherita Ligure i pezzi più grandi con speciali trasporti e gru di posizionamento è uno sforzo organizzativo davvero notevole che speriamo si traduca in analogo interesse da parte di cittadini visitatori ha affermato il sindaco Paolo Donadoni bene non mi resta che lasciarvi le previsioni del tempo per la giornata di domani e alla programmazione di Entella TV e io vi auguro un buon proseguimento di serata Previsioni per la giornata di domani venerdì 8 aprile l'avvicinamento di una perturbazione atlantica determina un aumento dell'instabilità con possibili piovaschi e rovesci sparsi di intensità tra debole e moderata nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti dal pomeriggio a Levante umidità su valori medio-alti venti moderati in prevalenza settentrionali mattinata in attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali invece dal pomeriggio mare da poco mosso a mosso in serata in ulteriore aumento a Levante fino a localmente molto mosso temperature previste sulla costa tra i 12 e i 18 gradi nell'entroterra tra i 6 e i 16 gradi